Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Una chiesa in cammino. Spero dopo la condividerete a tutti. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia dal titolo Una chiesa in cammino perché siamo uniti nell'amore che ci ha donato il Signore e per una chiesa in cammino noi daremo il nostro impegno, saremo un seme vivo piantato nel terreno fiorente e saremo concordi nel far nascere una grandiosa ed eccelsa visione della chiesa, anche nel senso pratico, oltre a quello ideale. Nel senso pratico perché dobbiamo realizzare la carità che da sempre sentiamo dire negli ideali, cioè fare proprio dei fatti pratici verso chi ha bisogno. Una chiesa in cammino sulle note delle virtù positive ci offre un invito dolce a donare le nostre speranze accese, ad essere seme profetico per tutti, per portare tutti alla divinità. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Una chiesa in cammino. Siamo uniti nell'amore donatoci dal nostro Signore per una chiesa in cammino dove essere seme vivo piantato nel terreno fiorente. Siamo tutti concordi per dare un contributo carico e solenne che possa risultare utile per far crescere la famiglia unita nella fede. Una chiesa in cammino sulle note delle virtù positive offre a noi un dolce invito a donare tutte le nostre speranze accese. Una chiesa in cammino per dimostrare che uniti si crea qualcosa di forte, insieme sapremo crescere nelle opere e vivere un'estate d'amore nel cuore. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci.